Si è tenuto il secondo appello a distanza di una ventina di minuti dal primo, anche in questo caso è marcato il numero legale, la maggioranza completamente assente, il sindaco completamente assente. Quindi a questo punto la mozione viene decaducata, potrà essere ripresentata in altra veste, in altro mondo. No, 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 si regolamenta, ma chiaro, bisogna riconvocare con la stessa mozione. Oggi abbiamo avuto una dimostrazione con il G che questa amministrazione è attaccata alla poltrona, mi dispiace, sono molto deluso dai consiglieri di maggioranza perché è bella la democrazia, che cantano, cantano. Le democrazia sarebbero ordinare, avrebbero detto che loro sono feroci, felici dell'operazione, di Menoci, questo non è accaduto. Purtroppo, mi dispiace, sono veramente a fermare il caldo perché la città è a pari, la città è a terra. Noi diciamo, da anni, Menoci non è grato di amministrare quasi. Bene, apprezziamo Massimo che nonostante le precarie e gravi condizioni ha scelto, rischiando la propria vita, anche di essere in aula. Un esempio rispetto a 15, 16, quello che sono, a 7 istitoli politici. Vergogna.